buongiorno a tutti e forza napoli da due news e gianmarco giuliano beh prima o poi ci deve essere una sconfitta e se sconfitta doveva essere meglio ieri e soprattutto non perdendo poi con quattro gol di scarto che non in altre partite dove i punti sono decisamente molto più importanti ieri quindi il titolo è troppo facile da fare c'è sconfitta in dolore ma più che questo invece preferisco mettere alla pari con il liverpool perché questo che poi napoli ha dimostrato ieri allora c'era un unico obiettivo ieri nella partita che non era un obiettivo secondario cioè di riuscire a finire primo il primo nel girone e napoli ce l'ha fatta certo dopo tutto quello che aveva fatto nelle partite precedenti aveva un grandissimo vantaggio cioè contro il liverpool della partita andata quindi per 4 a 1 avrebbe dovuto perdere ieri per 4 a 0 diciamoci la verità fino all'ottantacinquesimo da tra l'altro spalletti già aveva effettuato dei cambi non c'era più in campo guaraschelia non c'era più lo botteca quindi già erano stati fatti dei cambi importantissimi in alcune zone del campo e poi il liverpool è riuscito a segnare sia all'ottantacinquesimo e sia al novantasettesimo ma solo da azioni di calcio da fermo tra l'altro calcoliamo anche che rientrava con a te a difesa del liverpool e personalmente non non mi ti rendito nel dirlo per me van dyck e con a te sono personalmente lo ripeto la migliore coppia difensiva che c'è al mondo come difensori e ieri l'hanno fatto vedere una certa non difficoltà c'è difficoltà no perché comunque il napoli ha fatto la sua partita è andato ad anfield per vincere cioè il napoli è sceso in campo ad anfield per vincere allora torniamo un altro sulla partita quindi l'obiettivo il primo posto è stato raggiunto il napoli chiude il girone con ben 30 gol fatti che è il maggior numero di gol fatti da una squadra nella fase a giro della champions record incredibile poi per la prima per la seconda volta finisce primo nel girone la prima volta c'era stato con sarri in panchina e per la quarta volta si qualifica agli ottavi di finale della champions ricordiamo che il napoli ai quarti non è mai arrivato speriamo ovviamente nell'urna di venerdì anche se a prescindere da tutto tranne se poi il pari san germain oggi non dovesse finire secondo tutte le squadre che potremmo incontrare tranne appunto il pari san germain sulla carta sono alla nostra portata se non addirittura inferiori come ho detto prima il napoli è giocato alla pari con il liverpool abbiamo visto la potenza della difesa del liverpool perché anche alexander arnold fa parte per me dei migliori terzini che ci sono al mondo bene con la schede gli ha fatti ben due tunnel nell'arco della partita a dimostrazione che il napoli non aveva timore di nessuno e osimen ha giocato muro contro muro faccia a faccia con van d'aik e con a te in una maniera incredibile ricordiamoci che al settimo minuto c'era anche un rigore nettissimo su corraschelia non dato vi ripeto meglio la sconfitta ieri meglio un rigore non visto dal var ieri piuttosto che in altre partite vi ripeto l'obiettivo era vincere il giro e l'abbiamo fatto anfield forse mentre la difesa del liverpool è tra le più forti del mondo anfield rientra sicuramente per me addirittura forse il campo più difficile su cui giocare ma diciamo tra i primi tre al mondo in cui è difficilissimo giocare per l'ambiente per la grinta che ci mette il liverpool si è visto anche ieri e il giovane napoli non ha avuto paura e questa già è una grandissima vittoria perché fa parte della mentalità allora il possesso palla ad anfield è stato appena appena superiore per il liverpool 52 a 48 mai il napoli al liverpool aveva ottenuto questo dato della difesa praticamente ne abbiamo parlato del liverpool ma parliamo anche di quella del napoli perché il napoli forse pochi l'hanno notato è sceso in campo rispetto all'anno scorso con il portiere che non era quello l'anno scorso perché praticamente c'era meretta al posto di uspina parliamo della difesa titolare ma anche gli altri altri tre su quattro erano differenti olivera ostigard e kim vogliono parlare della partita di olivera per me sala è stato praticamente annullato da olivera che ha fatto una partita eccezionale dimostrando una grandissima forza una grandissima velocità ed intelligenza anche tattica va sempre in anticipo su giocatori tra l'altro veloci perché parliamo di sala tra i migliori al mondo in quel reparto ostigard ostigard che è un giocatore che non solo ha grande potenza nel corpo di testa e grande potenza fisica ma anche la capacità di fare gioco di fare dei lanci ieri ne ha sbagliati due o tre nel primo tempo ma chi va al maradona spesso nota che tra primo e secondo tempo nell'allenamento che fanno i giocatori ostigard spesso gioca con elmas da una parte e l'altro dei falli laterali diciamo quindi del lato piccolo del campo e si fanno i lanci tra di loro bene ostigard 9 su 10 li mette proprio sul piede di elmas elmas che invece è più tecnico di ostigard non riesce a avere questi numeri che cosa significa questo? significa che ostigard ha anche i numeri per farli partire il napoli velocemente e a 22 anni un giocatore del genere sta dimostrando che può avere anche molto più spazio di quello che ha avuto fino adesso ostigard quindi oliveira e poi naturalmente kim sul quale naturalmente c'è poco ancora da dire è un giocatore fortissimo che non sbaglia nessuna partita qualcuno ieri ha detto i due gol del napoli i colpi di testa sono avvenuti proprio su kim beh ragazzi però comunque ricordiamoci che contro appunto come ho detto prima i colpi di testa sono stati fatti da van d'aik e con a te ok quindi parliamo tra i numeri uno anche nei colpi di testa in area avversaria quindi non c'è Ubi Maior Minor Cessat dicevano i latini ok tra l'altro anche mi è piaciuta moltissimo la partita di Don Belè e Spalletti lo ha messo in campo perché probabilmente ha visto una capacità di combattimento in campo di fisicità superiore a Zelinsky e a Danfield non puoi andare se non hai queste caratteristiche proprio nel sangue e nelle gambe mi è piaciuto molto Don Belè è in fase di crescita e potrà dare ancora tantissimo in tutto questo ci stiamo dimenticando che manca un rigore sacrosanto al settimo minuto su Quaraschella hanno detto tutti i commentatori televisivi era nettissimo il fallo ci sarebbe stata anche la munizione per Conatè e non c'è stata poi il gol annullato vabbè c'è il VAR c'è la tecnologia quindi giusto annullarlo però per pochi centimetri c'è lo schema del Napoli grande il cross di Quaraschella bellissimo lo stacco di testa di Ossigard e il Napoli comunque era passato in vantaggio senza la tecnologia il Napoli sarebbe stato in vantaggio ma questo non lo diciamo perché per me è giusto che ci sia il VAR e anche se per un centimetro bisogna annullare il gol come il VAR sarebbe dovuto intervenire però attenzione su Quaraschella lì non è intervenuto perché non si capisce il perché su queste cose il calcio dovrà riflettere ancora parecchio e poi mancano molti cartellini soprattutto due giocatori come Firmino e Fabbigno che hanno tirato calci per tutta la partita fermando azioni di ripartenza entrando in malo modo dove era l'arbitro? dove erano i cartellini? se li erano dimenticati? dal tonico? non lo so però si giocava ad Anfield ecco diciamo pure che purtroppo una sorta di paura reverenziale ecco del campo dell'avversario cioè l'arbitro è cioè di una delle due squadre in campo il Liverpool ad Anfield fa paura finito quindi il record delle 13 vittorie consecutive ma la partita di ieri fa lascia il Napoli consapevole della propria forza già essere entrati come ho detto prima ad Anfield per vincere la partita tra l'altro dopo il gol subito all'85 il Napoli si è riversato in avanti non la voleva perdere e questo fa parte di grande maturità quindi è una squadra giovane perché giovane siamo al primo anno di un progetto perché la rivoluzione è venuta l'anno scorso e già questa squadra è consapevole delle proprie forze quindi è una partita che lascia la mare in bocca solo per il risultato ma l'obiettivo incredibile quando sono usciti i gironi cioè nessuno poteva pensare di arrivare davanti al Liverpool è stato raggiunto quindi grazie a questi ragazzi che ci hanno regalato per la quarta volta nella nostra storia la possibilità di giocarci gli ottavi e per la seconda volta, vi ripeto primi nel girone con 30 gol realizzati quindi grazie ragazzi e speriamo nell'urna di venerdì speriamo che per una volta ci vada più che bene Forza Napoli e buona giornata a tutti da Dua News e Gianmarco Giuliano